Un grande applauso, signori! E adesso, Cavaliere Erika, Torino Mantini, Contola Gaia e Rosana Rosa interpenderanno il ballo di danza con il volano di Sèche, che parla di come le onne che si incambiano in una santa. Ci sarà sempre una calma come la del Vesta, quando l'acqua si viva. Sèche d'immagrazione. Alla prossima passata il Vista è una domanda un' Şimdi, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.